Buongiorno signore, dove siamo oggi? Siamo le più belle macchine del mondo, maggiormente davanti a questo prototipo. Che straordinario! E non solo come color, ma sarà anche straordinario come motorizzazione. Allora, facciamo il giro perché so che ci sono tante e tante macchine e poi vedremo. Ok, da bene. Allora, che bello!